Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze e Scandicci e il Bibio per la variante di Valico. In direzione Roma, rallentamenti tra Valdarno e Arezzo. Sulla Fipili, in direzione Firenze, ci sono 5 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Scandicci. In direzione Mare, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Erest. Rallentamenti per lavori tra Empoli-Est ed Empoli. Fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Vicarello e il Bibio per la A12 in direzione Livorno. Chiudiamo con i traghetti per le avverse condizioni meteo. I collegamenti con le isole potrebbero solire variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!